Due anderine entrate, una mezza sfoltita alla rosa, ma il Catania lascia l'hotel Melià di Milano senza aver chiuso l'acquisto di un attaccante, nonostante sia il direttore sportivo Cristiano Argurio che nella giornata di ieri l'amministratore e il delegato Pietro Lomonaco abbiano sondato diverse piste. Sia Montini del Livorno, Exmonopoli che Strabelli del Matera, due degli obiettivi sono sfumati. Sono rimasti in rosso-azzurro tre dei giocatori che avevano mercato e quasi un piede lontano da Catania. Sono rimasti semenzato in trattativa col Venezia, Rossetti richiesto dalle Onze ed Agragas e Giorgiovic che ha rifiutato nell'ordine Alessandria, Cosenza e Matera. Lasciano torre del Grifo in tre. Lovric è andato all'Alessandria in prestito con diritto di riscatto, prestito secco invece per caccetta al Pordenone, mentre Calilla ha risolto il contratto con la società rossa-azzurra e avrà tempo sino al 28 febbraio per trovare una nuova squadra. Al Catania arriva Antonio Porcino, classe 95, dalla regina con un contratto sino a giugno. L'esterno aveva già un accordo con la Cremonese che ha preferito continuare a far rifare esperienze in terza serie, in rossa-azzurro, per poi aggregarlo dal prossimo campionato in serie B. In Sicilia proda anche un altro under, il croato Fran Brodic, 21 anni, arriva dal Krabbrug in prestito e ha al suo attivo esperienze con l'Anversa e il Rose, la squadra di seconda divisione con cui aveva iniziato la stagione. Brodic ha anche debuttato con l'Under 21 croata. I nuovi saranno a disposizione di Lucarelli già da oggi, in vista della trasferta di Andrea, l'allenatore deve fare i conti con la brutta notizia che arriva dall'infermeria, ovvero l'infortunio di Caccavallo che ne avrà per un mese e mezzo.